Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore, la storia di oggi è la notizia lanciata dallo stesso cantante recentissimamente ha messo in allarme tutti i suoi fans che da anni apprezzano il suo modo di fare musica Il rapper di Molfetta si è fatto conoscere dal grande pubblico da ormai diverso tempo, anche se forse non tutti ricordano che nella prima fase della sua carriera ha utilizzato il nome d'Artemichinix Il suo attuale soprannome invece, è dovuto proprio alla sua folta chioma di capelli che è diventata uno dei segni distintivi del famoso artista In dialetto pugliese infatti, Caparezza significa proprio testa riccia Mentre questo è senza alcuna ombra di dubbio il suo marchio di fabbrica relativo all'aspetto esteriore, il cantante ha raggiunto tutto questo successo attraverso dei brani straordinari in cui ha dimostrato di essere in possesso di un grande talento Per quel che concerne la sua vita privata invece, di notizie se ne hanno ben poche Caparezza è una persona riservata che non ama far parlare di sé per gli affari personali ma piuttosto preferisce farlo mediante la sua voce ed il ritmo delle sue canzoni Caparezza, il cantante spaventa i sua fama, addio vicino? Come un fulmine a ciel sereno, non molte ore fa l'artista pugliese ha rivelato la presenza di un serio problema che lo sta ostacolando da ormai parecchio tempo La patologia che sta attanagliando la salute di Caparezza è l'acufene, un disturbo che colpisce nello specifico le orecchie Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che mi hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l'ho fatto ma non è cambiato alcunché Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo, questa è stata la confessione del cantante che ha messo in allarme i suoi numerosi fans spaventati dall'idea di un suo ritiro Il 48enne tuttavia, ha chiarito che per il momento è costretto ad interrompere i live, motivo per cui non ci sarà una ripresa invernale del tour di Exuvia Tuttavia, qualora la situazione dovesse complicarsi ulteriormente costringendolo ad un addio definitivo, egli sarebbe il primo a mettere al corrente tutti i suoi sostenitori Questi ultimi adesso sperano che il problema non peggiori, altrimenti il rischio di un ritiro dalle scene diventerebbe ancor più probaile Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie Grazie per la visione